Abbiamo un consiglio per Spalletti per vincere la Champions. Hai un consiglio per Spalletti. Allora facciamo due consigli per Spalletti. Questa è Chiamarsi Bomber, il podcast. Io sono Carmine Delgrosso. Io sono Francesco Arienzo. E niente, ascoltate la puntata. Che settimana è stata, Francesco? Ma che settimana ci aspetta? Va bene, però la settimana di Serie A, cioè la giornata di Serie A che è appena passata, onestamente. Eh, sono accadute delle cose assurde. Ma che assurde, Carmine. Io ormai, onestamente, trovo tutto completamente piatto. Ma tu stai, continua a dire così, ormai da settimana. Che cosa ti ha sorpreso, perdonami? Ma tu hai capito che hai dato di nuovo un ticket a Gabbiadini per la doppietta? Ti sembra poco questo? Assolutamente no. Sapete, Gabbiadini è il mio feticcio. Eh sì. Ok. Mi ha ragione, è stato sorprendente questa giornata. È la Domenica delle Profezie. Hai ragione. È la settimana. Ormai Domenica in maniera così virtuale, perché non è che si gioca solo la Domenica. Però, Francesco, è accaduto questo. Hai detto veramente questa cosa che non si gioca più la Domenica? Adesso la giornata di Serie A è spalmata per quasi tutto. Si sono allungate le giornate, primavera. È giusto. Scusami, eh. Si sono allungate le giornate calcistiche. È vero, perché io sono ancora in quella fase della Serie A ormai piatta che non ci sorprende più e invece è vero. Sono accadute cose assurde. Gabbiadini che comunque ha fatto un'altra doppietta, perché questa è la seconda doppietta di Gabbiadini. Possiamo dire che sta pure a posto per l'anno prossimo a questo punto. No, per due anni, giusto? Sì. Allora, a me è arrivato un messaggio in privato su Instagram dicendo, hai visto? Ho segnato di nuovo da un account che non conosco. Comunque è arrivato pure a me. E quindi credo sia il secondo profilo che ha Gabbiadini, quello che utilizza per parlare con le ex, no? Sì, oppure per andare a spiare. Esatto, esatto. E quindi abbiamo portato fortuna, cioè hai portato fortuna, io non mi prendo questi meriti perché io ne ho ben altri. No, a me è una sorpresa. Pensavo che si fermasse una doppietta in Serie A come è solito fare ogni anno e invece già mi ha fatto un altro. Si è anticipato per l'anno prossimo. E la Sampdoria ha vinto la prima partita. Sì. Bellissimo, come possiamo dire. Non so quanto possa servire, però bello. La Juventus come al solito ha vinto a braccio, volendo fare un piccolo gioco di parole. Un piccolissimo gioco di parole. Perdonamelo, perdonamelo. Allora, io credo che Rabiot abbia trovato il modo per eludere il VAR, perché si mette in una posizione, come diceva Ricky prima, durante la nostra riunione pre-rec e ha trovato che sta un po' alla Celentano, sai quando Celentano faceva il movimento di braccio? Lo attacca al corpo, però lo allunga leggermente. Ma lui studia le telecamere prima? Eh sì. Quando fanno il giro là sul campo andano a vedere, lui vede dove sono piazzate. Trova l'angolo morto. L'angolo morto. Bravissimo. Per impallarle. Eh, a questo punto sì, devo capire, devo pensare di sì. La Lazio. La Lazio non voleva. Al secondo posto. La Lazio è arrivata con le mani alzate. Così? Ha detto, io non voglio stare al secondo posto, ma per caso c'è… C'è posto? E si è messo. E si è piazzato. Si è piazzato. E cosa? L'Otito negli spogliatori avrà litigato con Mourinho. Ah, vabbè, vabbè, ma questa è una cosa classica che accade, di solito. Non lo so, perché sì, vabbè, Mourinho non era in campo, era squalificato, quindi si è fatto valere. Mourinho non si sa dove… Cioè non sono riuscito a individuarlo questa volta. Da dove ha visto la partita? Non lo sappiamo. Non lo so. Inter sta messa male, come il Milan. Sì? E poi cosa resta? E cosa resta? Niente. Resta Udinese che sta… Poi affrontiamo l'Udinese perché c'è una curiosità su… Una piccola curiosità. Però tu hai detto una cosa fondamentale adesso. Tu hai aperto la puntata dicendo una cosa. Hai un'idea per Spalletti. Io ho l'idea per Spalletti. A che cosa ti stai riferendo tu? Allora, prima di tutto faccio un piccolo inciso. Quale? Il destino purtroppo ci ha fatto incontrare. Perché noi siamo testimoni di una squadra, testimoni del Napoli e del Milan e il destino ha deciso di metterci contro. Esatto. Questa è la verità. Quindi diciamo che questo sorteggio è stato deciso un po' dal nostro fato. Sì, è certo. Dalla nostra mano, dalla nostra influenza. Il Napoli incontrerà il Milan tre volte nel giro di una settimana. E quindi volevo dare, essendo io milanista, ma una piccola, anche perché serve molto di più al Milan questa cosa, volevo dare un consiglio a Spalletti per passare in Champions. Tanto il campionato è vinto, Francesco. Possiamo dirlo? Matematicamente non è così, quindi lasciamo perdere. Mamma mia. Devi parlare della Champions, parlare della Champions. Vabbè, secondo me, come nel gioco del poker, dovrebbe bleffare. Qual è questo bleff? Lo vogliamo rivelare? Eh sì. Nella puntata tu diceva, no, 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 le carte, mi dispiace. Non so se è così il bleff. Che vuoi dire? Comunque la prima dovrebbe perderla. Cioè il campionato? Sì, quello è il campionato. La perde fa tipo degli aggiustamenti tattici, strani, tipo mette Mario Rui dietro le punte. Ah, ma tu proprio così, palese proprio. Ebbè, abbastanza, perché diceva, fince qualche infortunio, qualche debacle tecnico-tattica. Basterebbe dire ai ragazzi non pressate. Eh, sì, pure. È una cosa del genere. Il Milan prende coraggio e diceva, allora è abbordabile il Napoli. Vince. Vince, per forza, serve. E in Champions poi il Napoli si rifà. Andata e ritorno. Ma allora, non lo so. Non lo so, pure perché io il sorteggio di questo Napoli-Milan. Sì. Io ho paura di questo sorteggio, devo dire la verità. Ma perché hai paura? Ho paura del Milan. Ma il Napoli è il peggior Milan di sempre, posso dire? In che senso? Ma tre anni a sta parte. Ah, vabbè, però è come Champions League, capito? Francesco, tu con sta scaramanzia la devi smettere, però. Tu oggi... Allora, mettiamo la cosa peggiore. Cioè, una cosa impossibile, non peggiore. Napoli-Cremonese in Champions League. Tu avresti detto le stesse cose. Ma guarda che il Napoli è uscito con la Cremonese in Coppa Italia. Quindi... Ma ho capito, ma la Coppa Italia... Ma dai... Figurato. Pure il Larino, pure il Larino, temi tu. Pure il Larino. Io qualsiasi squadra. Il Larino calcio. Vabbè, no. Il Milan ha blasonato in Champions. Non sei oggettivo, veramente. Ho un motivo di temerlo, il Milan, perdonami. Sì, sì, sì. Va bene, va bene. Io spero che almeno... Ma di tre, di tre... Me ne basta una. Di tre me ne basta una. Quella di campionato, perché non voglio pensare alla Champions. Dobbiamo arrivarci l'anno prossimo. Sai cos'è? Che le tue speranze a volte però vanno in conflitto con i pronostici che fai. Cioè... Allora, tu la settimana scorsa hai dato un pronostico. Sì. E mentre la tua visione è come avere una bussola, no? Tu punti verso sud e quindi sai che dobbiamo andare direttamente a nord. Questa cosa che è accaduta non dipende da me. Allora, Carmine, tu la settimana scorsa hai previsto un risultato di Champions. Sì. Hai fermato tutto. Stavamo registrando il podcast, avevamo altre rubrici. Ho detto, no, 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 fermatevi perché devo dire questa cosa. Mi sono fatto largo tra le rubrici. Esatto. E tra l'altro tutti scettici. Manchester City, Lipsia. E Manchester City se passa, passa con difficoltà ma perde. Sì, ho detto perde se passa, passa con difficoltà. E infatti oggi di cosa stiamo parlando? Manchester City l'ha scamazzato in Lipsia. 7 a 0 ha vinto. Ma guarda che se tu, come giustamente stavi dicendo, segui la scia al contrario, hai perfettamente il risultato esatto. Dovresti ringraziarmi. Ma se tu ti sei appropriato di un format che io avevo ideato, che era il Toto 0. Ma il Toto 0 non funzionava. Non funzionava, infatti tu sei molto più preciso, io ti devo fare i complimenti per questo. Esatto. L'ho migliorato il form. Tu ha diritto, ma guarda, anche con Sottil, che tu stai parlando male di quest'allenatore dall'inizio del campionato. Momento, momento. Sottil è una rivincita personale nei miei confronti. E' Cigreto. Lì non c'è il pronostico. Che ha preso il Toto Milan e l'ha ribaltato. Sì, sì. Però, però, guarda che pronostico ho fatto. Si sta verificando. Gli allenatori stanno andando via dalle panchine per vedere la partita in una sorta di sgabuzzino. Ma quando? Ma dove? Che succede? Allegri, Allegri, nella partita con l'Inter, gli ultimi minuti, è andato via. Ma non si sa dove è andato. Magari chi ne sa che è andato a vedere la partita dove? È andato a vederla in una sala sua di registrazione perché ha un drone che gira su. Ma che ne sa? Ma tu veramente pensi che tra un po' gli allenatori alleneranno tutti i smart working? Certo. Questo è il tuo pensiero. Sottilla ha fatto la stessa cosa, si è fatto cacciare. Murigno non si è proprio presentato. Senti, a proposito di pronostici, a questo punto, visto che tra un po' c'è la pausa nazionale, no? Sì. A questo punto, dimmi come finirà Italia-Inghilterra. Ma non mi accontento solo del risultato questa volta. No. No, mi devi dire un minuto in cui segna chi segna, quanto finisce appunto la partita, e se proprio mi vuoi dare anche un fan fact, cioè che ne so, l'arbitro in ciampa al 43esimo, tra i piedi di Mancini, non lo so, una cosa del genere. Va bene. Italia-Inghilterra, risultato esatto, 2-0 per l'Italia. Segna Gnotto e il nuovo acquisto dell'Italia. Acquisto? Eh sì, va bene, l'ho acquistato. L'hanno piato in leasing? Non lo so. Retequi. Ok. Retequi e Gnotto, 2-0. Rete, primo al quattordicesimo del primo tempo. Segna Gnotto, di testa. Testa. Ma però non è tanto altro. Vabbè, Gnotto, di testa. Vabbè, non c'è. Retequi, secondo tempo. Ma non succede, quindi. Vabbè, Retequi, secondo tempo, tira al volo. Vendisesimo, il secondo tempo. Perfetto. Dimmi cos'altro vuoi sapere. Basta, non voglio sapere più niente. Vuoi sapere il fan fact che è accaduto? L'arbitro perde durante la corsa un cartellino che viene ritrovato il giorno dopo da un piccione. Forse poi si è girata la coda. Un po'. Perde un cartellino che ritrova pochi secondi dopo perché si accorge di non avere. Fischio finale. Cioè, fischio finale. Sì, ci sarà. No, questo è il fischio che segna la fine del primo tempo. Quindi adesso c'è la scheda della leggenda del fantacalcio scritta da Daniele Villa, interpretata da Veroni Gavinelli. E poi noi ci vediamo subito dopo. Ce l'ascoltiamo. Il suo nome è Pasquale Luiso ed è una leggenda del fantacalcio. Lui era speciale. E non perché Luiso sembra uno di quei nomi finti per coprire l'amante tipo Gessico Calcetto, ma perché era un attaccante moderno. A Sora venne soprannominato Toro di Sora per le sue capacità aeree, talmente tanto che ben presto passa al Torino dove esordisce in Serie A. Ma l'esperienza dura poco, forse perché era ancora troppo acerbo, più probabilmente perché Toro di Torino suona malissimo. Ma l'esplosione avviene comunque a Piacenza e successivamente a Vicenza, realizzando un totale di 23 gol in Serie A. Incornata potente e piede destro caldissimo lo hanno infatti reso un ottimo slot nei fantacalci di fine 90 inizio anni 2000. Memorabile una sua rovesciata in Piacenza-Milan 3 a 2 perché fu un colpo straordinario e anche perché, se è vero che il battito d'ali di una farfalla può provocare un uragano dall'altra parte del mondo, una rovesciata di Luiso a Piacenza può provocare l'esonero di Tabarez a Milano. Lui poteva tutto perché era Pasquale Luiso, semplicemente una leggenda del fantacalcio. Pasqualone Luiso, tu ce l'avevi a fantacalcio? Sì, il Toro di Sora. Il Toro di Sora. Il Toro di Sora credo sia uno degli appellativi più belli. Forto. Sì. Forto comunque lui. Eh beh, ricordo un grandissimo gol che fece al Milan di sforbiciata. L'abbiamo appena sentito proprio nella scheda, Carmine. Infatti, lo dico, ricordo. L'hai ribadito? Eh beh, certo. Ma a proposito, chi è il tuo bomber di giornata? Ah, beh, come non citare il VAR? Ah, il VAR è il tuo bomber di giornata? Beh, assolutamente sì. Il VAR che tu sai che non è lì nel campo. No. Il VAR è lontano dal campo, è a Lissone, la sala VAR. Ma veramente? È una zona bruttissima. Ma è il VAR di tutta Italia? Tutto il VAR, è tutto l'area. È tipo la centralina? È tipo un termovalorizzatore dove ci sono solo schermi, tipo la centrale nucleare, quella dei Simpson. E lì c'è la sala VAR. Ma dai, non lo sapevo. Eh, te lo sto dicendo, Francesca. Io faccio anche divulgazione, è mica solo intrattenimento. E quindi, eh beh, la sala VAR per forza non riesce a beccare per due volte il buon, no? Che? L'abbiamo nominato prima. Ah, vabbè, Rabiot. Il buon Rabiot. Eh, quindi per forza... Rabiot Vlaovic pure, insomma. Sì, due volte addirittura, due braccia. Sì. Due braccia rubate all'agri bar. Quindi, beh, questo è il tuo... Bombardino. Il tuo Bombardino, è il bar. Tuo. Il mio Antonino Cannavacciuolo. Ah, con Torino. Stava a Torino, eh, allo stadio, con la famiglia, bello lì affacciato alla ringhiera. Stava tranquillo, non stava ancora seduto, era in una posizione tipo Giulietta. Esatto. Gli sono arrivati gli insulti... Quelli classici. Originalissimi, tra l'altro. Quelli classici, i grandi classici. Esatto, sulla sua forma fisica. Ma mi ha fatto ridere Antonino Cannavacciuolo, perché non è che... Cioè, sorrideva e diceva... Aveva quell'aria e diceva, tu non ti preoccupare, aspettate un po'. Sì, sì. Ci vediamo dopo, facciamo i conti... Diciamo con... L'ha presa con grande diplomazia, ma anche con grande esperienza che ti porta a dire, no, guarda cosa succede tra poco. Eh, esatto. Poi non so a che punto della partita è successo, però, insomma... Ma quella, le stelle Michelin, non a caso, eh. I chef sono... Perché no? Tifosi, ma anche... Non so dove sto andando a fare. No, infatti, vai a parare invece... Filosofi? Chiamiamoli filosofi. Invece, su una rubrica alla quale tieni molto... I finger foot. I finger foot. L'unica che tengo ormai. No, 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 ne abbiamo introdotto un'altra prima, quindi... Temi da spizzicare. Temi da spizzicare. E non da approfondire. Quali sono? Vabbè, prima di tutto un grande applauso... Eh? Così, al Catanzaro, che torna in Serie B dopo 17 anni, con 5 turni di anticipo, ha battuto il Gelbison sul campo della Salernitana, alla Rechi, molti più tifosi... Cioè, molti più tifosi... Sei stanco, Carmine, oggi sono molto stanco. Non riesco a parlare. Non ho dormito, mi sono svegliato alle 6. Eh, ma non ti dico neppure... Comunque, allora, lo stadio del Gelbison, il campo, a sto punto manco stadio, non avrebbe mai contenuto i tifosi del Catanzaro, in arrivo da Catanzaro. E quindi hanno dovuto prendere l'altro stadio, che è la Rechi di Salerno. Ok. E quindi ha festeggiato sul campo... E ti è piaciuta questa cosa? È stata bella. Pure secondo me. Io invece voglio fare complimenti a Gosens. Sì. Che giustamente impiega il suo tempo in panchina a fare altro. Nel frattempo sei laureato in psicologia. Come sei laureato? Sei laureato in psicologia. Ma davvero? E secondo me la laurea non a caso è psicologia. Per aiutare in zaga, dici? Secondo me pure per aiutare se stesso sulla panchina che fa. Cioè che è costretto a fare, capito? È un autaiuto, giustamente. Eh sì, non a caso. Lui magari si voleva laureare in ingegneria informatica. Comunque vedi, tutti i calciatori che non giocano poi si laureano. Pure Pobeca si è laureato. Ah. Eh vedi, uno ha tanto tempo. Che deve fare? Lo riempie in qualche modo. Appunto. Avevamo invitato Pogba l'altra volta. Esatto. Quindi resta ancora valido. Tu sei laureato? Io sono laureato. Ah, ok. In... Eh? Che cosa? Giurisprudenza. Va bene? Va bene. Ecco perché sono qua. Sono laureato in giurisprudenza. Va bene, avevi tanto tempo libero, vai. Sì. Campionato eccellenza. Sì. Dici, vabbè, siamo usciti in qualche categoria. Il Campo di Pietra. Il Campo di Pietra è una squadra molisana. Ah, ok. Subisce 189 gol in 24 partite, quindi con la media quasi di 8 partite, con 24 sconfitte. Ah, ottimo. E questo mi rimanda un po' alla mia infanzia barra adolescenza. Ne vogliamo parlare qui? Sì. È la tua laurea in psicologia. Quando giocavo a calcio, in 32 partite, con la Juventina Circello, che era la squadra dove militavo, abbiamo subito 232 reti. Eeeh. Sì. Sì. In 32 partite e 232 reti. 232 reti. Sai chi era il portiere? Ce l'hai davanti ai tuoi occhi. Giocavo in porta. È stato l'ultimo anno in cui ho giocato in porta. Ci credo. E ti dico, vuoi sapere com'era la divisa? Allora, sia d'estate che d'inverno, avevo la tuta lunga della Hull Sport di Taibbi, quindi quella imbottita, i pantaloni imbottiti. Bella. E giocavo con un particolare, a cui tengo molto. I guanti di lana. No, i guanti erano della Puma. Puma. Giocavo col cappellino Ferrari della Decra, quello di Michael Schumacher, messo al contrario. E ora che ci penso, se metti il cappellino Ferrari al contrario puoi fare una cosa, il pan in aro. Non c'è nessun portiere che può mettere il cappello al contrario. No, ma è vero. È vero. Cioè, forse non... Ti ho regalato una bella immagine della mia infanzia. Ma no, 232 reti. Le hai chiappate tutte? Non ne prendevo una. Paravo con i piedi, ti dico solo questo. Non usavo le mani. Bene. Tipo chi fa il Sir Taki, capito? Mi lanciavo solo con i piedi. Davanti, così. Cercavo di parare con la pianta del piede. E non ci riuscivi. Non ci riuscivo, non ci riuscivo. Invece no, vabbè, secondo finger foot mio è Dembélé. Dembélé? Eh, che mezza alla settimana è volato a Sunderland. Eh sì. Per andare a vedere Sunderland Sheffield. Beh, vabbè, è uno che... Perché? Perché vai a vedere la Championship? Io sono fan del Sunderland dopo i documentari Netflix. Si può dire Netflix? Sì, si può dire. Dopo i documentari Netflix sono diventato un fan del Sunderland. Sì, pure io l'avevo vista la settimana. Eh, e Dembélé evidentemente, però ci tiene un pochino un pochino di più. Aveva qualche omaggio, qualche amico, che ne sai? No, penso che se lo possa permettere il biglietto Dembélé. Anche sia quell'aereo che... Qualche amico allora? Vedrai che sarà stato qualche amico. Abbiamo finito i finger foot. A me dispiace. A me dispiace. A me no, perché... A me no, perché stiamo... Sto per farti una domanda. Entriamo. Questa domanda è quella del quiz di oggi. Qual è sto quiz? E allora, siamo alla rubrica Grandi campioni e squadre improbabili. Ma voi perché mi volete male? Carmelo, tu devi indovinare questo calciatore. Chelsea, stagione 1999-2000, 15 presenze, 5 gol e una Coppa d'Inghilterra. L'indizio che ti do è questo. Un pallone d'oro e 46 gol in Serie A. Di chi sto parlando? Io stavo per dire di Matteo, ma mi ha... Di Matteo, pallone d'oro. Pallone d'oro. Già mi hai bruciato. Però ti ho dato un indizio importante. Pallone d'oro preso in Italia? Pallone d'oro preso in Italia... Sì. Dammi qualche altra... Non mi stai aiutando. Non ti sto aiutando. Beh, 46 gol in Serie A, quindi è uno che non ha segnato chissà quanti gol, però sono stati... Allora, molti dei gol sono stati anche indimenticabili. E la miseria. Eh sì, almeno uno... Uno proprio te lo dovresti ricordare. Tu soprattutto te lo potresti ricordare. Ah sì? Sì. È un giocatore... Aiutami, è italiano? Non è italiano, non è italiano, non è neppure europeo. Perché sono passati tanti da sto Chelsea? Sì, però comunque non l'ha vinto al Chelsea il pallone d'oro. Ok. Quindi l'ha vinto in Italia, quando giocava in Italia. Ah, l'ha vinto quando giocava in Italia? Che non è un calciatore italiano, non è europeo, grandissima progressione, grandissima corsa, grandissimo fisico. E basta, credo. Sto cercando anche di capire. Che altro? Mi voglio ricordare... Ma non è che... Le scarpette... Gli scarpini erano bianchi, giusto? Non erano bianchi. Erano rossi. Rivaldo. No, non c'entra niente. Non ha mai vinto il pallone d'oro. Non ha giocato al Chelsea, Rivaldo. Eh, no, certo. Eh, no. Ronaldo nemmeno, perché non ha giocato. Ti posso dare un indizio in più? Sì. Ha giocato nella tua squadra. Ha giocato. E non parlo del Benevento. Ha giocato... Sarebbe stato magnifico. Sarebbe stato bellissimo. Pallone d'oro al Benevento. Stavo parlando del Milan. Eh, sì. Quindi attaccante... Attaccante. Manuel Ruicosta. Attaccante. Eh, vabbò. Savicevic. No, non è Savicevic, perché Ruicosta non ha giocato al Chelsea. Ma sto pensando, tutte le persone poi che non hanno vinto il pallone d'oro. Appunto. Attaccante. C'è entra avanti. Forte. Mi stai spostando. Ha occupato poi, dopo la carriera calcistica, quella politica. No! George Weah. George Weah. Mi faccio vedere pure. Ma è il mio... Eccolo qua, il Giorgione Weah. Ma sai che io avevo dimenticato proprio il suo passaggio al Chelsea. Pure io. Ma totalmente. Anche io non lo ricordavo il posto. Io ricordavo Paris Saint Germain, Milan. Eh sì. E poi? Poi basta. E poi basta. Poi basta. E invece è andato al Chelsea. E invece è andato al Chelsea. Sai che è uno dei miei idoli, Francesco? Chi? Lui? Eh sì. Ma infatti si vede che... È nato. Ti dico pure quando è nato. Io sono nato il primo ottobre, credo, del 66. Crede. E io sono nato il 2 ottobre 86. Tu dici, ma che coincidenza. Non c'è la coincidenza. Non c'è la coincidenza. Mi facevo ridere. La coincidenza. La coincidenza porterà però le persone a seguire il prossimo episodio, la settimana prossima, di Chiamarsi Bomber il Podcast. Per ora ci fermiamo qui. Per ora ci fermiamo qui perché ne ho bisogno. Io sono purtroppo stanco in questa puntata, ma come dire, tu sei stato il faro, il mio faro. E io ti ringrazio, Francesco. Non mi responsabilizzare in questo modo perché non me lo merito assolutamente. Mi hai portato alla fine di questa puntata. Tu mi hai portato alla fine quasi dei miei giorni. In tutto questo periodo, sì. Ringraziamo chi ci tiene in vita, allora. I nostri autori, Marco Renzi e tutta la commissione di Chiamarsi Bomber. Ti piace commissione? È il nostro Max in regia che oggi compie gli anni. Auguri Max. Quindi facciamo gli auguri a Max. Possiamo dirlo, abbiamo lo stesso regista della Bobbo TV, solo che noi gli abbiamo portato niente. No, Marco gli ha portato le pizzette. Ah, grande, grande Marco. Carmine Del Grosso. Francesco Arienzo. Ci vediamo la settimana prossima. Buonanotte. Ciao. 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 Grazie a tutti.